Saltiamo l'introduzione e andiamo direttamente al dunque. Versando del denaro su Trade Republic otteniamo uno dei migliori tassi di interesse disponibile sul mercato attualmente, ovvero il 4% di interessi annui versati mensilmente. Quindi il premio di questi interessi ci arriva ogni mese. E ho anche ricevuto già qualcosina, quindi ve lo farò vedere. Di fatto in descrizione c'è il link con relativo bonus e basta iscriversi, basta poi fare un versamento tramite bonifico carta o Google Pay come pagamento per avere liquida depositata sul conto di Trade Republic, che è un broker, tra l'altro adesso andiamo a vedere come funziona, e semplicemente lasciando quei soldi fermi riceveremo un interesse, senza dover fare alcun investimento tra l'altro, semplicemente depositando delle somme. Quindi andiamo a vedere quello che riguarda il sito. Ovviamente sul sito ci spiega di che si tratta, Trade Republic è un broker, un broker ovviamente regolamentato, possiamo comprare azioni, ETF, obbligazioni derivate, anche criptovalute. Ovviamente non ci sono consigli finanziari in questo video, ed è un'applicazione che è stata anche rinnovata recentemente con una grafica effettivamente molto minimale e semplice da utilizzare. Vediamo anche poi come fare un piano di accumulo su un ETF classico relativo ai mercati globali, il Core MCI World. Per chi mastica di più, ha visto i video precedenti pubblicati sul canale, che vi lascio collegati a questo video appunto nelle schede, di fatto con i piani di accumulo non ci sono commissioni, tra l'altro, e per altri tipi di operazioni pagheremo delle commissioni davvero basse, addirittura paragonabili a un euro, e tra l'altro un euro è anche la cifra da cui si può investire, non c'è bisogno di fare ordini elevati, e recentemente sono state introdotte anche le obbligazioni, quindi la possibilità di ricevere dei rendimenti acquistando queste obbligazioni, sempre a partire da un euro, perché vengono acquistate in forma frazionata e non è necessario sempre utilizzare il taglio minimo che è sempre di 1000 euro per ogni singola obbligazione. La più grande offerta di ETF in Europa, quindi anche come broker per gestire i propri risparmi, investimenti assolutamente è tra i migliori, e di fatto abbiamo tutto a portata di mano sullo smartphone. Negoziazione di strumenti derivati come abbiamo visto, per quanto riguarda la fiducia e la trasparenza come stiamo vedendo, ci sono milioni di clienti, miliardi di asset in gestione in 17 paesi europei, e l'istituzione finanziaria tedesca regolamentata da Bafin e Bundesbank, da parte appunto delle autorità tedesche, perché Trade Republic è un broker tedesco. Ovviamente mercato regolamentato e SPED mediamente migliore rispetto al mercato di riferimento. Ci sono anche le frequenti asked questions relative al fatto che ci sono tariffe basse, come è possibile offrire questo tipo di tariffe ai utenti, è un'azienda che punta tantissimo sul digital e di fatto cercando di annullare le commissioni d'ordine e di applicare uno spread, un piccolo differenziale quando facciamo degli ordini. Questo è già qualcosa di più elaborato rispetto alla parte principale di questo video, perché come detto il succo, come detto all'inizio è sul titolo, Trade Republic come broker ci offre un'ottima remunerazione, c'è il link in descrizione per iscriversi appunto, come ho detto, e molto semplicemente rispetto a tenere i soldi sul conto corrente andiamo a proteggerci per quanto possibile dall'inflazione che di fatto rimane elevata e va a erodere il potere d'acquisto di quelli che sono i nostri risparmi o il nostro patrimonio. Perché fare questo tipo di operazione? Perché se teniamo i soldi sul conto corrente di fatto perdiamo il potere d'acquisto mese dopo mese, così guadagniamo qualcosa che quantomeno tende a bilanciare questo tipo di problematica. Ricevo degli interessi, viene indicato che dal 1 ottobre gli interessi dal 2% anno passano al 4%, fino a 50.000 euro depositati. Se abbiamo a disposizione capitali da 300, 400.000, 200.000, quello che sia, ovviamente sapremo probabilmente come gestirli e utilizzeremo altri strumenti per diversificare. Magari abbiamo un portafoglio completo con azioni, obbligazioni e altri tipi di strumenti. Scarichiamo l'applicazione, vediamo come funziona, è molto molto semplice. Creiamo il nostro account e di fatto saremo pronti a fare tutte le operazioni. Sotto ci sono i pulsanti per investimento o trasferimento, li andiamo a vedere. C'è riferimento alla nuova applicazione, possiamo scoprire le obbligazioni, le andiamo a vedere rapidamente, anche invitare amici a ricevere 40 euro di bonus. Poi sotto ci sono anche i tipi di ordini, quindi possiamo creare degli ordini oppure aggiungere un piano di accumulo. Se vado a gestire il piano di accumulo, ci andiamo tra un attimo, potremo scegliere ETF da accumulare. Se clicco su trasferisci, posso versare del denaro, posso scegliere una carta da gestire, posso ricaricare 25 euro ad esempio, minimo 10 euro. Carico 25 euro, faccio un pagamento con carta, senza commissione ovviamente, ho del denaro depositato e sto cominciando a guadagnare gli interessi su quel denaro. Allo stesso modo, cliccando nella parte alta, posso scegliere Bank Transfer per fare un bonifico, posso usare Google Pay per fare quel pagamento e semplicemente trasferire del denaro da una mia carta o mio conto corrente direttamente su Trade Republic e ricevere gli interessi. Se non ho nessun tipo di voglia di investire, comprare obbligazioni o fare cose di questo tipo, ovviamente non ci sono consigli finanziari in questo video, semplicemente che cosa faccio? Lascio i soldi lì sopra, quando mi serviranno nuovamente li prelevo, faccio il prelevo molto semplicemente e ovviamente non ci sono vincoli, quindi tra una settimana potrei tranquillamente riprelevare tutte le somme, domani mattina se necessario e riaccreditarle sul mio conto corrente se mi servono i soldi. Ovviamente il consiglio è di inserire delle somme che tengo ferme per un po' di tempo, di cui non ho necessità immediata, in modo tale da farle maturare e ottenere appunto questi interessi. Fatto questo abbiamo fatto il trasferimento e siamo pronti. Se vado sul saldo, al di là di quello che ho versato, posso vedere gli interessi. All'inizio mese, l'ultimo relativo al 2%, vediamo che mi sono stati accreditati già degli interessi. Il pagamento, come detto, è mensile, quindi a fronte del 4% annuo, dividendo per 12%, mensilità questo rendimento, otterremo il rendimento mensile. Per quanto riguarda la parte di investimento, posso cliccare sul pulsante, lo vediamo rapidamente a scopo didattico, ovviamente posso scegliere singole azioni, quello che voglio farvi vedere è il relativo piano di accumulo sui ETF, se vogliamo magari versare una cifra e piano piano investirla, magari. A fronte di questo cosa facciamo? Troviamo quello che riguarda il piano di accumulo, oppure facciamo una ricerca dell'ETF, inseriamo aggiungi piano di accumulo, cerco l'ETF, so quale voglio andare a cercare, il core MCI World, ci sta di iShares, di Amundi, di Xtrackers, all'accumulazione ovviamente, abbiamo approfondito gli ETF in un altro video e di fatto magari prendo quello di Amundi perché costa un pochettino in meno di gestione annua, clicco su accumulo, posso anche fare un singolo acquisto e a questo punto che cosa andrò a fare? una volta che l'ho cercato, posso cliccare su compra e prendere una certa quota oppure cliccare su accumula e scegliere quanto ci voglio investire, quindi voglio comprare 20 euro al mese di questo ETF, clicco 20 euro e proseguo, posso anche decidere quando devo fare l'acquisto, quindi settimanalmente, due volte al mese, mensilmente, ogni tre mesi, inserisco una cifra e verrà acquistato appunto la quota dell'ETF quando voglio. Ed è tutto direi, il video era per la segnalazione relativa al tasso interesse alto, per dire che ovviamente esiste questo broker che ci dà un ottimo rendimento, anche versando il denaro, appunto, ci portiamo qualcosa a casa, che in questo periodo, a fronte dei tassi interesse molto alti, può darci sicuramente una mano. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se ci sono domande e dubbi qui sotto nei commenti, inserite al canale per non perdervi altri contenuti come questo e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video.